ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi un video acquisti amazon allora io direi di partire subito con questo qua più piccolino e poi vediamo quest'altro allora vi ricordo innanzitutto che qui sotto nell'info box lascio il link a tutti e due i prodotti una piccola premessa su questo allora io avevo acquistato un libro si chiamava so many planner stickers è stato spedito sol che non è stato consegnato infatti poi sono andata a guardare e purtroppo mi hanno fatto arreso perché nella spedizione è stato danneggiato per cui ho deciso di comprare questo altro set di stickers che ora vi mostro allora ho cambiato non ho ripreso il so many planner stickers può darsi che lo riprenderò più avanti perché poi ho visto questo set sono 22 fogli di stickers e mi sono piaciuti quindi gli ho voluto prendere sono stickers funzionali andiamo a vederli insieme questo è il primo e sono su carta opaca non lucida quindi volendo si può scrivere sopra ogni foglietto un tema tipo questo tema del compleanno carini perché ci sono le mattitine quindi si possono usare come back to school il giorno del ringraziamento qui ci sono diverse feste questo altifunzionale questo estivo molto bello questo unicorni è stupendo abbiamo questo invernale bellissimo io li ho trovati tutti molto molto belli questo anche qui è un back to school dove abbiamo un back to school comunque possiamo usarlo anche per le nostre agende in generale perché abbiamo un washi tape lo zainetto c'è le matite la forbice sono evidenziatori un po di cose da ufficio le gomme poi abbiamo questo bellissimo tema natalizio questo a tema san valentino pasqua questo tema sport questo è a tema halloween abbiamo questo con tutti i dolcetti patatine fritte il caffè arti ma è tema cinema scusate quindi festa magari anche può essere usato anche per carnevale questo è a tema matrimonio perché appunto c'è mister missus le fedi calici bellissimo poi abbiamo questo i colori sono stupendi color pastello poi abbiamo questi due foglietti per plan e per pianificare poi c'è questo sui toni del vero dell'arancione questo mi sa un po di autunno però guardate che carini queste freccioline poi c'è questo a tema beauty e salute benessere diciamo perché abbiamo anche appunto le posizioni di yoga abbiamo un po i trucchi le cose per lavarsi carta igienica e poi non so perché c'è questa macchina fotografica bello bello e poi la scritta relax poi abbiamo ce ne sono ancora due questo un po tema viaggi dove abbiamo il treno la vespa la bicicletta l'aereo la bussola carino molto molto carino e infine quest'ultimo che ha un tema un po vario per esempio la summer plan poi c'è ottobre settembre marzo qua ci sono tutti i mesi e poi abbiamo dei vari simbolini che uno volendo li può usare per identificare ogni mese carinissimo allora questi sono veramente bellissimi mi sono innamorata di questi stickers e quindi li ho voluti prendere al posto del planner del so many planner stickers magari quello poi lo prenderò più avanti adesso al momento ho deciso di scegliere questi quindi vi ricordo guardate qui sotto nell'info box perché trovate il link a queste meraviglie passiamo ora al secondo pacchettino e anche qui ho preso una cosa che che mi piaceva moltissimo come potete vedere è un libro allora eccolo qua è il libro di holly nichols non so se la conoscete è una fashion illustratrice di modern fashion insomma e fa tutte queste girl io le amo io amo i suoi disegni e questo è il libro vedete qua c'è anche la la girl questa è lei holly nichols e quando ho visto che c'era il suo libro l'ho preso anche se ovviamente in inglese però guardate io adoro i suoi disegni è venduto da boc depositary arriva dall inghilterra quindi ho dovuto pagare anche se l'ho ordinato da amazon ho dovuto pagare 4 euro 82 di di dugana penso penso sia dugana ormai si fa pagare su tutto vabbè comunque queste sono le sue liste illustrazioni che io adoro io amo il suo modo di disegnare e qui abbiamo appunto vari capitoli in cui ci parla un po' delle cosa sono le illustrazioni moderne creare la forma trovare diciamo il tuo stile e dei tutorial e dei template da colorare infatti in fondo vi faccio subito vedere abbiamo vedete quali tempi dei template che possiamo ovviamente colorare o comunque seguendo appunto le sue spiegazioni vedete qua c'è proprio ogni passo e guardate io le adoro a mi piace questo stile mi piace come disegna e vorrei provare anch'io a fare dei disegni così diciamo che qualcosa avevo già provato a farlo dopo vi faccio vedere ovviamente copiando i suoi disegni vedete guardate che bella stupenda e questa appunto è lei questo qua ci sarà un tesoro sono tutti i copic markers che sono proprio che sono questi i copic sketch lei usa tanto questi qua di copic sketch ho questi che sono quelli con i colori fluorescenti poi ho i copic ciao normali ne ho un pochini ne ho un po' vedete questi il copic ciao e adesso sto acquistando che costano molto molto meno ma che sono molto belli cioè secondo me sono hanno una bella punta pennello e sono gli spectrum noir illustrator e sto cercando insomma di farmi un po' di questi markers perché mi piacciono ecco e niente qua appunto c'è il primo capitolo dove parla un po' della storia e poi quando cominciamo fa vedere un po' tutti i materiali e poi fa vedere non so per esempio quale gradazione dei colori come fare la pelle come fare i capelli e ci sono appunto proprio le spiegazioni per fare appunto i disegni quindi boh l'ho preso appena ho visto che c'era l'ho preso e ho deciso di utilizzarlo per studiare un po' perché sin da piccola a me è sempre piaciuta la moda e mi piacevano i disegni appunto uno dei miei sogni era quello di diventare una stilista poi ovviamente col tempo ho cambiato e sono passata ad altro però mi piacerebbe ecco nel tempo libero come hobby fare un po' di questi disegni adesso vi faccio vedere uno che avevo realizzato copiando appunto Holly Nichols ed è appunto questa girl questa l'ho colorata con i markers a base alcolica quindi con i pennarelli a base alcolica non i copic avevo preso dei pennarelli non di marca sono buoni anche quelli bisogna usarli su un cartoncino liscio perché vedete guardate dietro lascia tutto il segno insomma e sono buoni anche quelli per carità buonissimi però da quando ho iniziato ad usare i copic e gli spectrum noir diciamo che la punta è tutta un'altra cosa ecco quindi molto molto bella la punta così a pennello sempre con i copic e gli spectrum noir invece avevo fatto un corso con Alberto Lo Schecherato di Impronte d'Autore e abbiamo realizzato questa bellissima rana insomma chi fa la colorazione con i pennarelli a base alcolica sa che veramente sono stupendi e mi piacciono insomma e quindi ho deciso di regalarmi il libro di Holly Nichols anche questo l'ho preso su Amazon e vi ricordo qui sotto nell'info box vi lascio il link ci metto un po' più di giorni ad arrivare perché appunto viene spedito dall'estero dall'Inghilterra se non sbaglio esatto Great Britain per questo video quindi è tutto fatemi sapere cosa ne pensate dei miei acquisti lasciatemi tanti pollici in su iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritti io vi ringrazio per avermi seguito vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao